E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Musica Ci sarà una degustazione di fagioli della masseria della coltessa, azienda biologica associata alla condotta Slow Food Valle Caudina. Qui è presente Giulio Antonuccio, proprietario dell'azienda. Assieme a questa degustazione c'è in abbinamento i vini della cantina Santi Uorio, altra azienda Slow Food, nonché le castagne dell'azienda biologica Selva del Duca. Stasera mettiamo in campo le eccellenze di San Martino Valle Rodina. Il Comune ci ha chiesto questa iniziativa e noi con onore porteremo avanti questa iniziativa. Grazie. Musica L'importanza di far parte di presidi Slow Food? Diciamo che rappresentare un'eccellenza è per noi un onore, perché non ci aspettavamo insomma di riuscire a far parte di questo gruppo che ci dà voce e ci permette di far conoscere il nostro prodotto che altrimenti sarebbe impossibile. Noi facciamo sette varietà di legumi biologici e anche ortaggi e erbe officinali. Musica 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 Grazie a tutti.